E a rappresentare il vero stile custom ci pensa Magnitudo Style. Davide, ciao, cosa hai portato qui? Abbiamo presentato tutta la nuova linea di argento, linea di collane, bracciali, anelli, orecchini, giacche di pelle, noi modelli e le scarpe, scarpe Magnitudo. Ok, qua hai due belle ragazze che magari ci possono far vedere qualche piccolo gioiello. Sì, sì, ecco, i nuovi bracciali d'argento riprendendo sempre temi della cultura custom del mondo, sì, rock'n'roll, ecco, quindi le rose. Andiamo su anelli, anelli sempre molto particolari e orecchini con teschi, croci, nuova linea di t-shirt anche, sempre fatta con delle tecniche particolari, sempre del mondo custom, che ovviamente non riveliamo, però molto belle da vedere e le trovate esposte qua davanti. Uno stile molto custom e molto rock, oggi c'è anche musica qui al padiglione. Sì, 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 qua per tutti e tre giorni ci saranno sempre gli Adels che solleranno dal vivo tutte le ore e birra gratis a tutti i clienti Magnitudo qui presso il nostro stand e insomma noi facciamo tutto quello che si può per... Ricordiamo sempre gioielli, tante belle cose da vestirsi, anche tanti tatuaggi, perché non ci facciamo mancare nulla. Non ci facciamo nulla, non nulla. Nuova è la rondine sul collo. Ecco, vedevo infatti la novità. E poi cerchiamo sempre di allargarci, giusto Davide? Sì, 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 sempre in cerca di partner per futuri franchising, negozi di abbigliamento e studi di tatuaggio e sempre nel pieno spirito rock and roll vero. E per trovare anche questi oggetti così interessanti c'è un sito internet che mi sembra che è rinnovato. Sì, giustissimo. In questi giorni della fiera viene presentato MagnitudoStyle.com o altrimenti tutte le pagine social network, Instagram, Facebook, Twitter, chi più ne ha più ne metta. Prossimo evento dove ti vedremo? Al moto dei San Roma. E mi raccomando, dal 7 al 10 di marzo, non mancate!